E' diventata negli ultimi tre anni una classica tra Serie D e Serie C per Picerno e Fidelis che si affronteranno domenica al Curcio. Resta l'imbattibilità dei padroni di casa che tra le muramiche non ha mai concesso neanche un pari nei quattro precedenti tra campionato e playoff. Tutti i successi per il Picerno a partire dal 2019 nei quattro precedenti, di cui tre in campionato compreso quello dello scorso anno. L'umore tra le altre cose è diametralmente opposto con la Fidelis in grande difficoltà e che in trasferte in stagione ha conquistato solo tre punti con una vittoria che manca da quasi un anno e mezzo. E' il Picerno di contro in grande fiducia anche grazie alla serie di importanti risultati positivi che l'hanno proiettata a ridosso delle zone altissime della classifica. E' una partita importantissima come tutte quelle che affronteremo da qui alla fine. Troviamo un avversario in piena forma, un avversario che negli ultimi due mesi e mezzo, tre, ha perso solo una volta col Catanzaro, che gioca bene ed è in fiducia, ma questo non ci fa partire battuti perché stiamo migliorando, lo vedo, sento uno spirito diverso nei ragazzi. Non so cosa è successo in passato, ma io sto cercando di far passare la convinzione che si stia partendo, si stia cominciando quasi un nuovo compionato che dura 15 partite nel quale dobbiamo provare a fare più punti possibili su ogni campo. Ma il tempo stringe, la Fidelis non ha praticamente più troppi appelli per cercare di conquistare intanto un posto nei play-out. Per farlo la società sta cercando di intervenire il più possibile sul mercato, con il DS Fernandez ancora al lavoro, tra uscite ed entrate, un movimento di calciatori che ha già portato in settimana all'arrivo di Grosso, Polverino e Salandria, mentre prosegue l'inserimento del nazionale maltese Borg, tanti però anche gli esuberi con diversi calciatori già con le valigie pronte. La società sta provando con tutte le forze a rinforzare la squadra, a prescindere da chi arriverà, sicuramente quella che deve essere la nostra costante, deve essere l'applicazione, la voglia, la cattiveria, il buttare tutto quanto sul campo, questo non deve mai mancare. Dovrebbe esserci conferma per il 3-5-2, con tutti a disposizione del tecnico Trocini e nessuna defezione, almeno per infortunio. Volsis-Ecuban dovrebbe essere il tandem d'attacco, mentre potrebbe esserci subito qualche volto nuovo in campo, come per esempio Polverino tra i pali e Salandria centrocampo, fischio d'inizio alle 14.30, con una temperatura che sarà vicino allo zero ad accogliere le due squadre al curcio, anche se sembra ormai scongiurato il rischio rinvio dopo l'abbondante nevicata di ieri mattina. Grazie.